Il Martina impatta sul Santa Maria Cilento, Altursi e Biancazzurri non vanno oltre lo 0-0 nella sfida della quattordicesima giornata di campionato. La squadra di Pizzulli non è stata certamente fortunata e avrebbe meritato quantomeno i tre punti per quanto costruito nel corso del match. Il primo sussulto è degli ospiti a giungere al quattordicesimo minuto grazie a uno schema su calcio di punizione. Chironi serve catalano, Palonetto a scavalcare la difesa verso Nunziante, ma il centrocampista cicca la sfida in apposizione favorevole. Il Martina cresce e sfiora il vantaggio al diciannovesimo con un diagonale di Pinto che si stampa sul palo. Sulla ribattuta Ganforina col sinistro non riesce a trovare il gol dell'1-0 grazie all'intervento dell'estremo difensore campano. Al ventottesimo Catalano impegna Pirro direttamente sul calcio d'angolo. Bravo il portiere Martinez a sventare la minaccia. Non ci sono particolari sussulti, quale squadra riposo sullo 0-0. I Biancazzurri sfiorano il vantaggio al nono della ripresa, Palermo controlla la palla in aria. Col tacco libera Bonanno che calcia verso la porta di Canizzano colpendo il palo. Al quarantatresimo grande occasione per i Biancazzurri. Rizzio rilancia male alla sfera che dopo un rimpallo finisce tra i piedi di Ganforina. Lo spagnolo si inventa una palla geniale verso Palermo. L'attaccante supera con un palo netto il portiere. Ma la retroguardia giallorossa salva sulla linea evitando il gol dell'1-0. Al quarantacinquesimo ci prova Pinto ma il tiro dell'esterno viene neutralizzato col corpo. Da un difensore campano nuovamente sulla linea di porta. Finisce 0-0 col Martillac e domenica prossima sarà ospite del Barletta.